letteralmente nessuno possiede queste rarissime skin su strumble guys infatti la skin è proprio questa anzi ne è più di una ed è proprio una skin versione completamente galaxy oltre questa abbiamo anche l'altra skin del panda versione galaxy quindi sono delle skin rarissime ottenibili solo tramite una mod fatemi sapere se a voi piacciono comunque ecco qui come si presentano in gioco sono delle skin veramente stupende che quasi nessuno possiede like se vorresti anche tu queste skin